musica 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 qui devo andare che palle uh registratore di cassa money gold 3 game aldelli nice roba a caso borsellino codice bisogna trova il codice di vox ok ma dove sarà andiamo vedo qui no 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 capiamoci io non ti ho fatto un emerita cipa ok amico mio non ti ho fatto niente io perchè devi attaccarmi quindi qua stetto del mercato oh my god hm andiamo a osservare un po' di qua se c'è qualcosa in intersound loop ok qui c'è un po' d'acqua qui c'è un un rispedisce il mittente oh my god questa è nuova ok ok return to center spedisce il mittente il premio per generare uno scudo magnetico tieni per molto per sorprendere il danno e lasciare per mandare oddio santo che figata che figata che figata ok allora go tramiamo il cadavere grazie cadavere bravo vieni qua tesoro scendi scendi dg grazie per le munizioni le munizioni buche wow scusa è tutto quello che ho nessun problema vai tranquilla tata let's go continuate a sparare no non continuate a sparare oh sali merci e crepa che bella la lucità quando quando sono a bassa vita questo lancia razze veramente beh iniziamo ad aprire qua vuoi aprirla vai tesoro pronta grazie tesoro facciamoci un po' di pera assieme è tutto vuoto qua che palle oh soldi colpi furosi quando la tossa tutta è estremamente bassa infeggi danni 2 per hm 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 lo prendo ma non lo metto ok soldi no grazie tesoro ok usciamo di qua poi andiamo dov'è il laboratorio dei lutesi tutto che ti ho detto è lì oh god laboratorio dei lutesi cassetta postale una torta gli hanno mandato una torta veramente sul serio pistola no oh god no risultato automatico niente di interessante ehi ci sono dei grimaldelli laggiù dove dove li hai visti donna dove hai visto i grimaldelli dimmelo uh una cassa dove cazzo hai visto i grimaldelli che cazzo hai visto i grimaldelli io non li vedo magari qua io non trovo grimaldelli tesoro vabbè prendiamo le munizioni per il cannone più munizioni per il mio cannone più munizioni per il mio cannone oddio santo posso raccogliere le munizioni in arrivo come colpi ok cioè non posso farlo però potrei farlo andiamoci non ho trovato i grimaldelli tesoro non mi dispiace questa è cosa dei lutes come facciamo ad entrarci nello show in qualche modo lo sciaprego devo andare su di qua quindi noi andiamo su di qua e prima dentro qua tesoro gold gold cosa? che mi sia chiuso qua dentro? dove cazzo li vedi tutti i grimaldelli? spiegami dove li hai visti i grimaldelli beh proviamo a salire nope ma no cassa niente va bene no non fermatelo splat splat eh ragazzi 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 siete troppo facili grimaldelli nice ora smetterai di cagarmi il cazzo del fatto che ci sono i grimaldelli in giro? no è vero lo sapevo allora oh my fucking god dobbiamo andare? dobbiamo andare? di qua? nope andiamo di qua allora e da qua posso passare? oh my god voxofono voxofono Jeremiah Fink caro fratello questi buchi nell'aria continuano a rivelarsi fruttuosi non so da quale musicista tu prenda le note ma se ha anche solo la mia il genio del biologo che sto osservando beh allora diventerai il Mozart di Columbia non ci credo praticamente sentiva la le canzoni quelle fighe che avrebbero fatto storia attraverso quegli squarci geniale e poi ovviamente diventavo un musicista famoso voglio anch'io uno squarcio a casa i giardini del monumento dove devo andare? di la? quindi andremo ai giardini del monumento let's go let's go let's go allora di qua tutto libero shali fucile oh f**k fanno qua ci attaccheranno vero? oh f**k ehi voi splat basta cercare nei corpi soldi lo faccio solo io ci siamo capiti? uuh un altro cadavere lì soldi questo vedi le non lo fate neanche bene avete lasciato i soldi lì cazzo è uno dog cioè un buonissimo dog e l'avete lasciato lì oddio oddio quella è Lady Comstock oh my god è che c'è scritto hoarder ok fantastico yeeey brava la mia piccola necrofila tu non capisci i soldi sono importanti tu hai qualcosa? si tu hai qualcosa grande allora uh Grimaldelli bibite poi scendiamo giù di qua la bambina cattiva andiamo qua e lì c'è un cifrario con della roba dentro come facciamo ad aprire questo coso? mmm ci deve essere un modo facciamo il giro non posso salire su di qua nope quindi proviamo di qua kit medici no a terra c'è roba no posso aprire questa no mi faccio entrare lì dentro mmm mi sa che mi servono delle chiavi particolari a questo punto che io non troverò a breve perchè questa ha la testa nera? sei messa male zia va bene no non sei messa male hai soldi nice vabbè andiamoci nell'isoletto dai brava via via da questo cimitero e di qua perfetto uh dimmi a pensare al sogno che hai avuto muoio orchi in fiamme c'è qualcosa nel sogno ah si mhm buche del witte l'uomo da una sola sillaba la soluzione al problema è il randese va bene l'abbiamo già fatto grazie uh di qua c'è qualcosa interessante mitragetrici cruci nope però di qua potrebbe esserci hm dio che macello che hanno fatto i vox comunque questa cazzo di città eh let's go parapam pa pam parapam pa pam parapam pa pam parapam pa pam zh comstock victory square si oltre quel cancello c'è la casa di comstock fantastico quindi noi andremo oh cazzo ferma di là non possiamo andare va bene ci serve una mano che possa passare ok dio tutta sta gente morta è terribile e nessuno ha ancora devastato quei due cosi che stranezze un pezzo di colore un vox ok andiamo di qua rapinando tutti i cadaveri che ci sono sulla strada cos'è una vita cos'è una vita di fronte alla fede esplodiva splat no non andategli addosso è molto importante che noi andate addosso che figata eh no eh grazie woo e che debba oh no eh oh no oh no grazie tesoro munizioni al merci uop andiamo di qua copritemi mi muovo ah si ciao ma ce l'hanno tutti con me vox ahia il fuoco purifica e vado a finire yep that's how we like it e basta grazie merci splat basta ragazzi basta basta fine dei giochi stop basta non mi sparate più grazie merci ah gesù io scambierò questo con questo giusto perché mi piace di più il fucile di precisione e poi prenderò questi sali mhm poi qua c'è una cannona a manovella un riparo un'automa armato così torna qualcuno gli spara grazie tesoro uh e di qua puoi grimaldeziare grimaldeziare è una parola l'ho inventata adesso allora hm pantaloni signori delle teste aumenta il 50% il danno da colpo critico hm interesting questo lo prendiamo lo usiamo ok j romstock ma non hai fatto un cazzo puoi riscattare il sangue non hai fatto un cazzo comstock no ma zaccariel non era comstock ups va bene nessun problema allora dimmi che posso potenziare questo no eh mi spedisce a meno o no va bene yes no allora poi di qua c'è qualcosa quindi let's go giù di qua allora 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 fatemi pensare un attimo di qua allora non 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 non